Ragazzoli belli, benvenuti tutti quanti su questo nomissimo video. Vi volevo ricordare ragazzi che se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite potete farlo tranquillamente utilizzando il codice creatore CROATOMIST. Quindi basterà andare nell'item shop, cliccare su supporto in creatore e andare a digitare il mio nome, ovvero CROATOMIST. Accettare ragazzi e il gioco sarà fatto. Vi ricordo inoltre ragazzi che ogni qualvolta shoppiate qualsiasi skin su Fortnite avete anche la possibilità di taggarmi su Instagram e io farò in modo appunto di condividere ogni singola vostra stories. Quindi ragazzi, grazie a tutti quelli che dicevano di supportarmi ma adesso godetevi questo fantastico video. Io prendo il palazzo centrale. Anch'io. Ok. C'è un SMG, è mia per forza, 100%, è mia. Va bene. Anch'io l'SMG. Buono. Non ci credo. A uno. Passamolo. Mende qua. Fattene. Marto no. Ok, quelli di più. Ah, ok. Ma prima, la vecina ragazzi. Ok. 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 Vorrei aiutarvi ragazzi, ma è un bordello. Ma sono morta anche io, va. Ho proprio straffato. Ci provo, ragazzi. Ok. Va appena a ributtare qua, però. Eh, sì, sì, lo so, lo so. Guarda, è solo un pompa, non chiedo a molto. Questa è qui sta. Questa è qui? ragazzi quanti sono allora se esco da qua e vi riesco a restare vi giuro che mamma mia 40 cioè voglio clacciarla se non lo faccio se l'abbiamo fatta ragazzi venite con me andate l'ultima anche se avete la pistoletta comunque ce la facciamo lo faccio cadere è giù è in low ground andò male ce l'abbiamo fatta ragazzi mamma mia non viene curarci la fontana ragazzi e poi partire con la nave abbiamo due minuti per curarci ok vai si andiamo adesso a camera vedita andiamo insieme vai ok io devo assolutamente farmare un minimo oh dietro di noi andami ragazzi dove è passato bianco bianco ok sulla montagna 30 blu ragazzi sulla montagna è blu eh uno che pusho come gli altri possono stare distanti qui me ne basta solo una me ne passa solo una mi divieto però faccio cadere faccio cadere c'è in giù Cade Miaco Ok Io pesco un pochettino Comunque siamo contro l'ultimo team credo Ho fatto wonder i giochi da telefono Ah da telefono ok Mi sono accorto adesso dell'iconcina del telefono Io ragazzi sono ancora col tattico grigio Sono tutti qua Attenti però Stanno buildando veramente troppo alti questi Occhio No no ragazzi attenti non fatti evitare Butta una granada attenti Atenti Atenti ragazzi Stanno morto Stanno morto Stanno morto Stanno morto Bravissimo Stanno morti ragazzi Stanno morto Stanno morto Stanno morto Stanno morto Uno non l'ho caduto ragazzi E in high ground con l'RPG Stanno morto 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 tranquillo sono in a ground, non ho fatto in mia cadera uno che salga mai, perché in questo caso è più creativo laserate il suo box, vuole il metallo laseratelo questo qua credo sia sceso è sceso? credo ci sia 40 qua dj dj ragazzi l'abbiamo fatto uff, la camera inizia del game direi che è andata d'addio beh, mettete ready, facciamocene un'altra